Parliamo di Ilari Vlasi, protagonista alla Vogue Fashion Night, bellissima. La Fashion Night, la notte della moda. Questo della moda, della notte della moda, la Vogue Fashion Night Out, bellissima e splendente, così è apparsa ieri sera a Milano. In Milano ha vissuto una lunga notte alla moda e con tanti viva. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.